Tornano in classe da oggi i circa 8 milioni di studenti italiani, compresi 2,5 milioni delle superiori, anche se con percentuali che vanno dal 50 al 75% in presenza, come prevede l'ultimo DPCM. A rimanere a casa un'altra settimana sono gli studenti delle scuole superiori della Sicilia, diventata arancione. Ultime in ordine di tempo a far ritornare i ragazzi delle superiori nei loro istituti sono oggi le regioni Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Veneto, Campania e Friuli Venezia Giulia. Nuova polemica nel Veneto. Sono stati tolti alle aule rimessi in magazzino i banchi a rotelle acquistati nei mesi scorsi al governo per facilitare il distanziamento tra gli studenti in classe. La ragione principale è l'accantonamento dei banchi anti-covid sarebbe che favoriscono l'insorgere del mal di schiena nei ragazzi, come ha riferito l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. La riapertura delle scuole è salutata come una vittoria dalla ministra Lucia Zolina, ma non mancano dubbi e polemiche. La situazione epidemiologica non sembra garantire la sicurezza tra i banchi. Tanti sono gli studenti delle superiori che oggi non sono andati a scuola per uno sciopero contro la didattica in presenza e contro gli orari. Alcuni istituti hanno un orario di entrata ritardato, le 10 o addirittura le 11 del mattino, per evitare di intasare strade e mezzi pubblici. Ovviamente anche la campanella suonerà in ritardo dalle 15 alle 16 di pomeriggio, senza considerare che, a causa del distanziamento e di tutte le normative anticontagio, mangiare qualcosa insieme ai compagni in classe è impossibile o pericoloso. Tanti invece i licei che hanno scelto di non aprire, di sospendere la didattica in presenza, perché non pronti ad accogliere in sicurezza i ragazzi. Caos anche per le scuole superiori di Toro del Greco. In molti casi si rilevano già difficoltà nel gestire insieme i ragazzi in presenza e quelli a distanza. Al pantaleo gli studenti segnalano la completa mancanza di connessione internet dell'istituto, che ha portato alla sospensione della DAD. Problemi simili anche al De Bottis. È probabile che il problema sia collegato ad una saturazione della rete che non riesce a reggere il sovraccarico dato dai troppi dispositivi connessi.